Buonasera, ciao Alberto, mi senti, adesso sono tutti i suoi miei candidati con il nuovo crollo del Treviso, e a tenere saldo la mente adesso, ma è lunga ancora? Questo sicuramente sì, fino ad oggi penso che insomma abbiamo dimostrato di stare sempre sul pezzo ed è quello che continuerò a fare, noi domenica adesso abbiamo una bella partita a Bassano e sicuramente è giusto fare i complimenti ai ragazzi perché l'altra volta vi ho detto che insomma fare tre risultati utili in una settimana è una semplice, anche questa settimana non è semplice perché insomma tutto più in meglio con la Coppa Italia e quello di domenica sono state partite toste, però questo è il segnale, ma questo l'ho detto che i ragazzi del fatto che la Rosa è fatta da giocatori importanti, giocatori di serie, giocatori che si mettono sempre a disposizione e che vogliono migliorarsi e dunque insomma chi entra, chi inizia la partita e poi chi subentra dimostra sempre di farsi trovare pronto. Assolutamente, ma è giusto anche fare i complimenti agli avversari perché non è che noi diremmo che la classifica ci sono anche gli avversari, è un avversario serio, un avversario preparato, ma penso che oggi vengono proiezioni con lo Stato e qual è la sua forza, la forza di una squadra che sta bene in campo, che lotta su ogni pallone, che dimostra solidità e dunque ha portato a casa veritatamente la partita. Il Campodarsi è una squadra che gioca, è una squadra che si tratta di più il valore proprio del mio contesto. Sì, sì assolutamente, come ti ho detto poc'anzi insomma il Campodarsi è una squadra che gioca, è una squadra che si tratta di più importante e lo ha dimostrato, però ripeto insomma penso che il primo risultato sia di rispetto giusto, una vittoria importante. I giocatori che vanno della parchina che fanno gol, che giocano sempre bene, a mercoledì a Sinani, oggi Cescone, allora vero come gioceremo, il ministro che ha una rosa dove è stato uno giocatore, i titolari. Sì, sì sì, la rosa è diventata un giocatore, 19 in movimento e Lulaci mercoledì ha fatto gol importante e oggi l'ha fatto Cescone, probabilmente lo meritava anche a mercoledì e dunque sono contento per lui e all'inizio se va a fargli i complimenti perché è tratto in partita, è tratto bene e poi la chiusa. Sì, è difficile trovare, adesso tra poco vediamo anche il primo a mercato, il fatto di orari sta spazio. No, ma allora, il primo a mercato si è messo che manca del tempo e poi penso che già l'altra volta ho detto che il mercato in questa situazione qua deve avere eventualmente un senso, ma un senso non per le qualità del giocatore, ma per le qualità del giocatore che poi porti dentro lo scuolatore e dunque in questa situazione non c'è nessun pensiero, nessuna riflessione in nessuna riflessione, poi tutto è migliorabile, questo sì, ma non è un pensiero che abbiamo in questo livello.